Allora, Servini, una cosa che volevo... Questo volentieri, oltre alle informazioni, stiamo anche cercando alcune soluzioni. Io stamattina in questo ufficio, da cui sono collegato con voi e vi ringrazio, ho lavorato con i governatori della Sicilia e della Calabria, Musumeci e Spirli, perché c'è un progetto aggiornato ad oggi di fattibilità del collegamento Sicilia-Calabria-Italia-Europa, per quello che è ponte sullo stretto di Messina, che lavorerebbe, peraltro, con l'acciaio prodotto a Taranto, quindi risolverebbe due criticità con una sola iniziativa e sarebbero circa 100.000 posti di lavoro. Quindi lei si aspetta che Draghi, dopo tanto tempo, rilanci il progetto ponte sullo stretto? Sì, perché sarebbe una grande immagine di quella che è l'Italia, che riparte nel mondo, la nostra ingegneria, i nostri architetti, i nostri professionisti, e ripeto, soprattutto è lavoro, e sarebbe un investimento che triplicherebbe i vantaggi e dimezzerebbe i tempi di percorrenza Roma-Palermo in treno da 11 ore a 6 ore. Ho detto in apertura che lei...